Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video! Io sono Pietro e siamo qua ma non per giocare ma per andare a fare una cosa Un paio di fa purtroppo non stavo registrando ma ho fatto una partita molto bella La andrò a commentare Allora eccola qua Ciao a tutti! Ok, ciao a Madito questa è mia sorella La andiamo a commentare Allora Non mi faccio vedere forse la partita intera Andrò un pochino avanti Poi sto però Madito comunque stava lì Purtroppo non c'è l'audio Ecco perché la voglio commentare Questo sono io Interamente io Che mi martellano con il marshmallow Basta martellarmi con il marshmallow Ma questo non sono io Ma chi è sto dizio? Ma chi è sto dizio? Ma io sono quell'altro Ma chi è? Tizio Chi è sto tizio? Ma chi è? Ma tu stai tu? Ma che c'è so Eccomi 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 Ok Scusate Allora Vedete io sono dentro l'autobus Io mi butterò Oddio Matilde Guarda Io sono il 71esimo Chi sei? Io Dove ti sei andato tu? Matilde Io non sto giocando Però non in terza persona Drone libero No però ci devi andare incontro Ecco gioco Scusate Non sono molto adatto Non sono molto adatto per i replay Comunque andrò a Parco Pacifico Poi c'è mia sorella Che stai mangiando? Che cosa dici? Che stai mangiando? Vedo quanta gente c'è E poi atterro per il poster A rifornimento Poi prendo il poster Che voi non vedete Poi c'è un tizio che lo sento Ecco No aspettate Aspettate Che volevo fare? No Come si fa? Ok Allora perché volevo far vedere proprio Ok ecco Così Vado Mi è riuscito pure a dare una piccolata Piccolata Poi perché non mi renderizza i cosi? Non lo so Ma va bene lo stesso Beh guardate Vabbè Ma che bug I replay tutti bugati Poi vabbè luto un pochetto Non si vede niente Io nell'ombra Bellissimo Scusate c'è un po' pagato Cioè scusate proprio Perché Cambio un po' le armi E Io fluttuo nell'aria Spero che voi lo vediate Ma credo proprio di no Io apro le porte a casa Costruisco Spacco le cose Mi do una mossa Perché se no Questo video dura 4 ore Spacco spacco Prendo la cassa Cambio tutto E poi salgo sopra il tetto Non renderizzato Perché tanto Poi cerco Gente Regà non si vede niente Cioè non renderizza Ok Non so perché le case Non me le renderizza Vabbè Poi vabbè Vado a aprire la cassa Trovo l'M4 E poi vedo gente Gente dentro la casa Che voi non vedete Granata fallita Granata bella E granata altrettanto bella Costruisco Lui esce Adesso lo vedrete proprio a destra Eccolo con il palloncino Mi tira una bellissima pulsolente E poi lo uccido Però perché sono stupido Ecco vedete Eccolo è A destra Lui bellissima pulsolente La seconda è proprio bella E lì ho proprio Scialanzo Dico muori Perché se no Poi Arriva un altro Vero No Non arriva un altro Non mi ricordo Sì Vabbè comunque No Forse no Che cosa Sei stato Vabbè Poi qua Ho fatto Le cose Avete sentito Vero Va bene Comunque io vado sempre A 4 Perché adesso No Vedi Mati è un po' più lontano Alla prossima Kill Niente Volevo fare A commentare Perché Lo so che io Sono Non è che sto Tutto Sto forte Fortissimo Faccio 4 kg 10 kg 28 Non è che faccio 10 kg La partita In questa partita Ho fatti 5 Poi Il termico Cioè Chi lo prende Perché non ho potuto Registrare Capito Da tanto Quindi Oggi video Video Adesso L'incontro Uno Quindi Meglio che facciamo Forse un po' più avanti L'incontro Sì che poi Quello che a passo Con la funivia È bellissimo Che vedrete Tra poco E allora Quando è che arriva Aspetta È così qua Che c'è Il passimello Sì me lo ricordo Allora Ovviamente io dico Ok Poi perché c'è Sta costruzione Qua con le piramide Esatto Non ho capito Bellissima E poi ce ne vedo Spaccare Poi lo vedo Cerco di prendere Con lo scan Non ci riesco Probabilmente Così Scusate Lo strisce Lui purtroppo Poverino Cade Mi mandano pure I messaggi Che cosa volete Io lo prendo Lo manco Assolutamente E faccio la mitraietta Ciao ciao È rimasto Con poca vita Tipo 25 26 Non mi ricordo Qua possiamo andare Più 4 Perché la possiamo Kill Tra mezz'ora Praticamente Mi mandano i messaggi Voi venite Ad allenamento Che me ne frega A me Io non ci vengo Poi è passato Da 40 minuti Non è vero 3 kill Che Si è buggato Tutto Ok Poi prendo Un po' di mele Che c'ho 75 Vita 50 scudo Poi vedete Sulla mappa C'è Delle persone Come ho fatto vedere E sono appena morte Poi io ce l'ho Una alla destra Io non lo so Che poi se ne va Se ne va E la capolista Se ne va Ma poi Ok Vedete Poi arriva Altra gente Io sto ancora lutando E tra poco Arriva la mia kill Però tra tanto Siamo a 10 Io sto cercando Indisperitamente La slurp E qua trovo il caccia Però qua possiamo andare Anche a per due Perché qua Incontro il nemico Siamo rimasti in otto Perché Matilde mi stava dicendo Siamo rimasti in otto Siamo rimasti in zeste Siamo rimasti Vati Stati calma E poi Dopo Quando Dopo Devo dire una cosa Qua vabbè legno Io cerco Indisperitamente Una slurp E io dico C'è gente Ma di A me non mi pare Vabbè Allora mi guardo un po' intorno C'è la gente che mi invita E allora Io ce l'ho Se vedete Sulla mappa Una sull'altra montagna Esatto Che sta costruendo E io cerco di Spararlo Tantissimo Con la funivia Che però Ce n'è un altro Sulla montagna Che è pronto Per la funivia Uccido Quell'altro Sulla montagna Se ne va con le aeree C'è la gente Basta invitarmi Edoardo E allora Cerco di prendere Ma non ci riesco Io con il cecchino Sono bravo Perché poi L'ultipo Chi l'ho fatta Con il cecchino Però Poi quello Va Stupido Siamo arrivati a 7 Siamo arrivati a 7 Siamo arrivati a 7 Poi ho Finisco i colpi Non riesco a ricaricare C'è Ci avrà 3 di vita Poi bellissimo Come lo uccido Perché Guardate Ci sarebbe bene La canzone E' la Framina Perché guardate Lui costruisce C'è la Giampa E' la Framina Framina Non riesce a prendere La giampa Se un'imagine 6 Come dice Matilde Che poi Questa è la mia Penultima Chilo Perché Poi Moriranno Altri E Come potete Vedere Ce n'è Una Nella mia Mappa Adesso Io Come uno Stupido Mi curo Vedete Sulla mappa Che sono Tutti Là Siamo Rimasti In 5 Siamo Rimasti In 5 Tutti Stavano Tutti Là C'era Gente Con l'aereo Tutti Là Stavano Allora Io Vado Ancora Cercare La Slurp Dentro Che qua Non è Stato Lontato Qua C'è mio padre Che parte Cerchi Indisperatamente La Slurp Poi Vabbè Tra Colpi 90 Oro Colpi 90 Oro Tipo Cassa Cattiva Cassa Le Bende P90 Oro Ed Ecco Che Siamo Di Passi In 3 In 2 Adesso In Questo Momento No Ma Passi 2 Come 2 Non riesco A Sostenere Questa Cosa Poi Va bene La camper Un pochetto Cerco di capire Dove sta Infatti Stava Laggiù Ma apro La finestra Adesso Qua Vabbè Posso andare Anche avanti No Vabbè Cerco di prenderlo Proprio in bolo Ma La mente Ci riesco Lui Costruisce Lui C'ha anche Un bel Lanciarazzi Naturalmente Perché Tanto Non dava Bene Ecco Guarda Arriva Lanciarazzi Ho distrutto Praticamente Tutto Poi Lui Perché Giai Deltavlani C'è Gliders Allora Vola Verso Di là Allora No Monberdo Qua C'ho Lancia A 1000 Allora Comincio A costruire Malamente Io dico Oddio Perfetto Ragazzi Spero che il video di oggi Mi sia piaciuto Se fosse così Bel pollice in su Commentate Condividete Se non siete iscritti Iscrivetevi Al prossimo Poi un po' Domenico Con il vostro Sigmelo Ciao Ciao